Ok, facciamo amicizia con il mostro. Dov'è? Tanta! No, facciamolo di nuovo. Billy, dici sul serio? Il piccolo Billy, il piccolo Billy è cattivo con te! Non fatevi ingannare, è più fastidioso di una scarpa da bello che fa niente! Ah, credo che ce la caperemo. Ma perché queste strane metafore? Oh, ciao Anais, perché sei così turbata? Oggi non porti il cerchietto? Oh no, era lo zero che hai preso al compito! Ah, ciao Gamble, bel maglione! Oh, hai chiamato il 2000 e ha detto che lo rivuole perché già allora era da sfigati! Anais, non riesci a girare con qualcuno che non sia della tua famiglia? Oh, già che sbagliato, tu non hai degli amici! Ci siamo sbagliati! Anais, distruggi questo tizio! Fermati, dove vuoi andare? Bene, ora basta! Il guanto di sfida è stato lanciato, nessuno parla a mia sorella in quel modo! Billy accetta, duelleremo nel cortile a mezzogiorno! E vai col sdango, facciamolo! Non posso farlo, cosa? Non posso affrontare un bambino, non è un duello alla pari!